bella ragazzi prima del video mi raccomando non dimenticatevi di fare un salto nel primo link in descrizione instant gaming dove troverete un sacco di videogiochi scontati e anche un sacco di ricariche per la xbox a prezzi veramente assurdi mi raccomando primo link in descrizione istangaming we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi abbiamo davvero un sacco di argomenti interessantissimi che parleranno ovviamente di fortnite tra cui ragazzi ovviamente la nuova patch 7.30 quella che comincerà tra poche ore alle ore 10 se non ricordo male i server andranno giù e partirà l'aggiornamento che dovrebbe vedere veramente un bel po di novità in arrivo tratteremo anche due secondi della nuova granata presente nelle notizie e ovviamente non mancheranno un sacco di leaks interessantissimi che vi terranno sempre aggiornati su quello che succede nel dietro le quinte di fortnite prima ragazzi vi ricordo però un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento su tutto quello che carico nel canale ma prima la domanda ragazzi è la domanda io ci tengo e vi ringrazio tantissimo per rispondere in tantissimi alle mie domande anche oggi voglio sapere qua sotto nei commenti qual è la tua pistola preferita tra le tre la pistola silenziata la pistola normale oppure la deagle la mia sinceramente è la deagle mi piace davvero tantissimo e ogni volta che la uso ragazzi mi stupisco di quanto sia forte come arma quindi sotto qua nei commenti la tua pistola preferita ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito ragazzi a farvi vedere un video voglio farvi vedere un video ragazzi eccolo qua guardate eccolo qua le banane al contrario perché non c'è eccolo qua ragazzi questo ragazzi è il video preso di poche ore fa e come vedete si è di nuovo leggermente sciolta una parte di ghiaccio che racchiude una potenziale skin come vedete ragazzi non esiste ancora nei file di gioco la skin sicuramente verrà probabilmente inserita in questa pace che arriverà fra poche ore come potete vedere ragazzi l'unica cosa che è stata aggiunta che prima non c'era è la parte del braccio più vicina al corpo che ha degli spuntoni quindi non sappiamo altro qualsiasi skin che vedrete in giro per il web non è assolutamente ufficiale ragazzi non esiste ancora la skin finale nascosta nel ghiaccio sono tutte supposizioni ma andiamo avanti ragazzi e parliamo un secondo proprio molto molto velocemente se per caso partisse cosa che ovviamente non fa della granata è quella ghiacciata ragazzi la nuova granata presente nelle notizie di qualche ora fa è arrivata ieri in realtà e ci chiedevamo come funzionasse questa granata perché la traduzione italiana non ci fa capire molto ci dice solo che una nuova granata ghiacciata che arriverà e probabilmente arriverà proprio oggi ma se guardiamo invece ragazzi in inglese si capisce tutto questa granata give your enemies cold feet vuol dire che se con la granata ghiacciata prenderemo un avversario congeleremo i suoi piedi questo è lo stesso effetto praticamente di quando andiamo sulle lastre di ghiaccio quindi staremo a vedere se sarà utile come granata se sarà inutile insomma se avrà un fine ponderato per quello che riguardano le nostre partite del battle royale andiamo avanti ragazzi e parliamo invece di un licks interessantissimo un'immagine che io vi avevo già mostrato quasi due settimane fa ma che è rientrata prepotentemente nel mondo delle leakers dei leakers mondiali questo ragazzi è un edificio che si diceva poter potreste potesse arrivare potreste potesse arrivare a pinnacoli pendenti ragazzi no smentisco la cosa è un edificio che arriverà su fortnite molto presto ma farà parte di salva il mondo non è detto assolutamente che verrà poi spostato sul battle royale quindi è semplicemente un nuovo edificio in arrivo nella modalità save the world che ovviamente tutti potrete vedere quanto prima magari addirittura con questa pace ma andiamo avanti ragazzi e parliamo invece di un'altra notizia importantissima che è il vecchio starter pack che sarà disponibile forse l'hanno già tolto ma secondo me fino all'arrivo della pace che arriverà oggi alle 10 sarà ancora disponibile quindi vi ricordo la skin con il backpack e 600 v bucks potrete ancora acquistarla dopodiché ovviamente non sarà più possibile non credo che faccia la fine della quello starter pack che hanno poi messo nello shop mi dimentico la non mi ricordo come si chiama voi sicuramente lo sapete questo non sarà più possibile prenderlo verrà invece ragazzi sostituito sembrerebbe dal nuovo starter pack il cobalt come vedete anche lui molto carino dai è più bello il cobalt rispetto a quello di prima raga dai parliamoci chiaro non mi piace nessuno dei due anche se prenderò anche questo e ho comprato anche l'altro però questo è un po più bello backpack skin e sempre probabilmente 600 v bucks disponibili per un periodo di tempo limitato in arrivo speriamo con la pace di oggi andiamo avanti ragazzi volevo mostrarvi un bel po di novità invece in arrivo per la modalità creativa queste ragazzi sono immagini relative agli edifici che saranno utilizzati che saranno che sarà possibile utilizzare nella modalità creativa per la creazione delle vostre mappe probabilmente anche questi in arrivo con il nuovo update come vedete c'è la scritta gnomes famosissimo oramai nel nostro fortnite abbiamo ben un complesso la seconda immagine di case molto simile a quelle che ci sono a borgo allegro se non addirittura uguali sotto cui abbiamo invece un sacco di elementi interessantissimi ci sono anche gli alberi avevo visto le foto grandi gli standard insomma tanti oggetti per poter abbellire le vostre creazioni e anche dei negozi c'è un negozio l'asse non ricordo male e un altro edificio molto simile a quello di pinnacoli quindi tanta tanta roba anche per la modalità creativa ma tra l'altro ragazzi parlando di cose che devono ancora arrivare su fortnite beh guardate che elenco enorme di oggetti di skin presenti tuttora nei file di gioco ma ancora non rilasciati ufficialmente nel nostro battle royale diciamo che io sono molto molto trepidante di vedere il piccone il primo nella fila alla quarta posizione quello blu che è veramente meraviglioso quello lo voglio assolutamente il flimsy flail si chiama e poi io sono un grande amante di tutte le skin per armi e veicoli quindi lot cold non so se avete visto un mio vecchio video dove già ve lo mostravo in sopra il quad è veramente ragazzi molto molto interessante come skin per armi e veicoli e quindi non vedo l'ora che arrivi andiamo avanti ragazzi e parliamo dell'ultimo argomento di oggi una cosa molto interessante in arrivo sempre con la pace 7.3 questo servirà per ridurre al massimo il problema dello stream sniping quindi come vedete avremo due nuove opzioni per chi utilizza il programma interno di fortnite per andare in streaming qua parlo principalmente per chi stream su twitch se non vado errato e avremo due nuove opzioni dove la prima si chiamerà anonymous praticamente noi appariremo con un nome anonimo a chi guarda il nostro stream mentre in game i giocatori vedranno il nostro nome normale e il secondo invece ci sarà la possibilità di oscurare i nomi dei giocatori nella nostra partita questo appunto per evitare ulteriormente che qualcuno possa farci uno stream sniper e quindi vedere gli stessi nomi nella sua lobby e nel nostro streaming e quindi incappare in situazioni abbastanza spiacevoli quindi kill assurde che vengono fatte non si sa neanche da che parte ma ragazzi io direi che per oggi vi ho aggiornato su tutto quello che c'è in giro per il mondo vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo più tardi con la patch 7.30 ciao